Mancava il lotto Ivana, eh? Mem di una tana, è vero o no? Salotto Ivana, amici, attenzione. 3 più 5, 2 posti. Che belle, eh? Ve belle. E allora, 2 euro, un salotto 799. Un più 2, non è vera pelle. Non è vera pelle. Salotto Ivana, comodo, più di una puntata. State bene attenti, cucina. Completa di tutti i suoi elettrodomestici. Di scelta, di qualità, guardate amici. Di pintura lattate, queste pareti ripenite in bu. Grande cucina di classe. Non è finita. Metto la camera, doppia cucina, è di qualità. Ma guardate, le piccole chicche, guardate, spingete. Auto, eh, eh, incredibile neanche. Qua, la nostra tavola con cristallo, 199. Sedie e due. Amici, andiamo a rassumere. Cucina. Camera da letto. Soggiorno 5 euro. Soggiorno 5 euro.